Caso Plus Valenze Lazio, chi le persone indagate? Roma un blitz a sorpresa e tanto rumore. La guardia di finanza in casa Lazio. A Formello, per il caso Plus Valenze che ora pesa anche sul club bianco celeste. Situazione esplosa in pochissime ore, sono quattro gli indagati tra cui il presidente Claudio Lotito. Vengono contestate le violazioni degli articoli 81 e 110 del codice penale, il reato continuato e concorso di persone nel reato. Ma anche l'articolo 2 del DLV 74, 20, 00, dichiarazione fraudolente mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Tra gli indagati figurano Lotito, Tare, Marco Moschini e Marco Cavaliere. Lazio. Chi sono gli indagati oltre Lotito e Tare, rispettivamente presidente e direttore sportivo della Lazio? Tra gli indagati c'è Marco Moschini. Fa parte del consiglio di gestione della Lazio, insieme al patron, e ricopre il ruolo di consigliere. E una delle figure più importanti all'interno dell'organigramma bianco celeste. E poi c'è Marco Cavaliere, membro della struttura organizzativa della società e ricopre il ruolo di direzione amministrativa e controllo di gestione investor-relator. Le colpe saranno tutte da dimostrare nelle aule dei tribunali. Non va dimenticato che la Lazio è quotata in borsa e dovrà rispondere della violazione dell'articolo 2622 di false comunicazioni sociali delle società quotate. Virgola. 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 Virgola.